E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie abbonati al canale. Buona visione! Tutto in natura ha una polarità. Gli opposti non sono altro che i due estremi della stessa cosa, ma con diverse variazioni di grado. Proprio allo stesso modo in cui caldo e freddo, che sono diversi solo per differenza di grado, sono in realtà identici, sebbene opposti. Puoi forse, guardando il termometro, definire dove finisce il caldo e inizia il freddo? Non esistono caldo e freddo assoluti. Entrambi i termini stanno per diversi gradi della stessa cosa che, a sua volta, non è che una variante e un grado di vibrazione. Dire caldo o freddo, quindi, non è altro che riferirsi rispettivamente ai due poli della stessa cosa. Quale differenza esiste tra il grande e il piccolo, il duro e il tenero, il bianco e il nero, l'acuto e l'ottuso, il movimento e la quiete, l'alto e il basso, il negativo e il positivo? Ognuno di questi paradossi ha la sua spiegazione nella polarità e solo in essa. Un discorso analogo può essere fatto per il piano mentale. Esaminiamo l'amore e l'odio. Questi stati mentali sono, a prima vista, del tutto in antitesi. Malgrado ciò, tra i vari gradi di odio e di amore, c'è un punto intermedio in cui diciamo piacere o dispiacere. Per capire che ognuno di essi si riferisce alla stessa cosa, bisogna riflettere un istante. È una regola di vitale importanza per gli ermetici che si possano cambiare le vibrazioni di odio in quelle d'amore e viceversa, non solo in se stessi. È probabile che anche tu abbia avuto un'esperienza diretta della rapidità con cui si può passare dall'amore all'odio e viceversa. Ti sarai certamente reso conto che è possibile grazie all'uso della volontà, ovvero con l'ausilio di insegnamenti ermetici.